Bene, in questi pochi secondi ti voglio presentare il kit di aggiornamento del modello 231 a Decreto Legge 93 del 14 agosto di quest'anno. Questo kit è costituito da una serie di strumenti atti ad accelerare il processo di aggiornamento. Infatti con questa nuova legge entrano nel paniere dei reati legati alla 231 nuovi reati, quindi in particolare i reati legati alla privacy, che richiedono ovviamente un adeguamento del modello. Questo adeguamento si esplica attraverso l'adozione di procedure specifiche che trovi nel kit, l'adozione di checklist utili anche per l'attività dell'organismo di vigilanza e le modifiche alla parte speciale del modello. Quindi nel kit trovi tutto questo che ti permetterà di ridurre notevolmente i tempi di lavoro e di aggiornare quindi rapidamente il modello 231. Per qualsiasi informazione mi puoi contattare allo 051 35 38 38 oppure via email a infochiocciolaedirama.org Ti invito inoltre a visitare la sezione decreto legislativo 231 del sito sicurezzapratica.it perché lì trovi tutta una serie di software molto utili per sviluppare e gestire il modello 231. Grazie